eccoci qua in giardino bisogna stare a casa non si può uscire e quindi per divertirci un po con le canne da pesca ci metteremo a fare qualche gioco di lancio abbiamo preso uno spoon un po vecchio che se si distrugge pazienza e adesso con questa canna proveremo a lanciare questo spoon in un piccolo secchio che metteremo ad una certa distanza e ci alleneremo a fare qualche lancio per centrare il secco un po come accadeva in qualche vecchio video del grande sanpei e adesso iniziamo a divertirci lo spunto e ora proveremo a centrare il secchio l'esercizio per divertirci a lanciare centrato qui 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 Yeeeah 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 II Bane I vai centro vai il nuovo centro Grazie a tutti.